Ciao! Come vi chiamate? Muriel Stella Stupido Quanti anni avete? 13 Cosa pensate di un oratorio diverto? Che sei molto trendy e sembroso Molto bello! Cosa pensate degli animaturi del creditor tuo? Sono gentili, bravi o colosi Mariani E sono belli No? Mmmmm Molto bello! Hai venuto il piccolo del don? Come si chiama? Axel Che razza è? Labrador Sono indeciso tra le targoncino Un labrador E' un labrador Avete visto la partita di oggi? Si Come è finita? Pinto verde 5 contro 5 Erano 7 prove Vi state divertendo oggi? Perchè Perchè? Perchè ci sono gli animatori E poi perchè sono... E' molto bello! Perchè c'è lei! Perchè c'è lei! Perchè c'è lei! Perchè c'è lei! Molto belle pupose Pugno allo spot Che dite preferite? Che dite? Vi piace andare al cre? Si Che dite preferite? Piscina Piscina Perchè? Perchè... Perchè... Sì Quali? Francese Unglese Italandese 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 Senegalese Portoghese Spagnolo Olandese Ungherese Anche Ungherese Se lo meno No Canadese No no Canadese no Americano Ehm... Vi piace essere intervistata? Si Da me? Ovvio! Sisi Ciao In cinese Cantate una canzone e ballatela Dal te Ok Basta Basta Provate la cara a telecamera Ciao Per un inchino Un inchino Oh